19 secondi ho capito ma ho fatto un commento è finito il tempo mi hai spaccato anche il pennorello che avevo ciao a tutti e Zuku benvenuti in un nuovo video oggi c'è il padrone della caverna Gabbo di Squared abbiamo anche Gabbo Mollura Gabbo Colombo Gabbo Piccarazzi Gabbo De Luca oggi siamo qua con la lavagna non siamo a scuola ma ho rubato la lavagna alle lezioni di scuola di Giastron potevo? puoi puoi oggi affronteremo una gara che ho deciso di chiamare gay Zuku disabile Zuku disegno che cosa tratta lo Zuku disegno? che cosa tratta lo Zuku disegno? è molto semplice caro Gabbo Piccarazzi Gabbo Morrone siamo divisi in due squadre quindi è una gara 3-B-3 le squadre sono ovviamente io Fabio Mollura e Official Dread contro Official Deluxe Official Dron e Official Gabbo dobbiamo trovare i nomi? certo sgorra contro i disabili i disabili i disabili? i disabili i disabili i disabili i disabili come ti chiamate voi? sgorra noi gli etruschi per scegliere la parola avremo un mazzetto di carte con 6 parole che vanno da 1 a 6 la squadra avversaria sceglierà un numero che va da 1 a 6 io pesco una carta casuale e la parola che mi capita mi capita poi potete insultarmi se il disegno l'ho fatto male se no non prendiamo punti buono dai caso in cui in questo round cioè in ogni round fate una io e una voi come squadra se entrambi le squadre riescono a indovinare la parola il punto lo prende la squadra che ci ha messo meno tempo ok fantastico ok mi raccomando lasciate 10.000 mi piace per altri video di gruppo e scrivete nei commenti chi è il migliore e il peggiore a disegnare scegliere un numero? partiamo 3 facili 3 va bene 3 di 1 vai ok la leggemo come fate a leggerla? frate ci vedo vabbè allora come faccio? la facciamo strana ok questa è così ok la famosa strana cioè folla no 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 che è? torta torta potrebbe essere potrebbe essere una torta festa di compleanno ok però però poi arriva arriva festeggiato gertrude non devi far commentare io festa di compleanno chi ha? non devi di niente gimmi silenzio palloncino spaccare la torta ah palloncino che esplode lui chi è? oh non devi parlare basta feste bravo ho capito ma ho fatto un commentary ma non ce l'ha mettere su bello 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 benissimo ora benito benissimo ma official deluxe o official gabbo? vado io così lo portiamo così va bene va bene la parola è la numero uno uno parola numero uno tre due uno via gabbo non vede un cazzo così no si vede due monti io ho un'idea due gambe e una vagina ci sarà dentro una vagina ginecologo ginecologo ci potrei postare una vagina parto tette parto ok sotto di una tipa cosa sta facendo? perdite vaginali liquido vaginale no? mestruo piscio perdite cosa fa? perdite qualcosa lì no? non perde qualcosa ma il capo di squadra non gioca? mi parla sopra ogni cosa che dice le direi io assorbente assorbente cartella clinica top top secret non ci può scrivere no non riesco a scrivere le parole vabbè si cazzo hai scritto buon compleanno che cazzo dalla vagina perdi sperma? veloce mancano 8 secondi 5 4 3 2 alla fine cura curazione femminile squirt secrezioni vaginali no impossibile ho detto in tutti i modi ma secrezioni non ne venivano mai ho messo top secret ho cerchiato solo secr ma pensa di me raga non potevo che truffa non potevo stava truffando eh gliene è capitata una complessa allora lo dico io numero 72 ma gabbo 7 più 2 9 diviso 2 3 vai 3 diviso 2 3 3 2 1 via è un rettangolo un una strada un'autostrada un'laver è una telecamera una telecamera una telecamera di sorveglianza un cespuglio del fumo fumogeno aria di sorveglianza telecamera di sorveglianza telecamera guardia banca di sicurezza questo c'è ragazzi c'è il senso quello di disegno te lo rifaccio il concetto è quello tutto il tempo del mondo fra tanto c'è il senso lo rifà uguale leo lo farà meglio scale scusa se non lo indovinano eh no eh sì videocamera autovelox telecamera stradale telecamera del traffico telecamera di un edificio telecamera statale guardone è telescopio telecamera nascosta nooo ah nascosta perché hai fatto un cespuglio so io avevo capito se fosse un cespuglio ma nascosta te lo spiego nascosto teo adesso tu di questo round devi cercare di portarci a casa se ce la faccio abbiamo fatto un punto potrebbe essere che non arriva alla fine del video perché il cappuccino sta facendo un bruttissimo no 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 teo datemi un number 5 5 quando ci metti troppo a leggere due parole significa che è impossibile che sai impossibile 3 2 1 go ignition take off oh oh che cazzo è oddio è facile pecorina sesso a 90 no secondo me ce l'ho portare fuori il cane sesso anale chiavare no porca troia mamma mia chiavare queste giorni squadra assieme è fallito dai da te il disegno il numero la lettera vabbè chiamo veramente il 4 chiami il 4 3 2 1 via è un culo dentro il culo è un culo retto anale calcio in culo è un culo veramente strano scusate mi ho sbagliato però è una vagina è un chicco di caffè è un fecaloma da chicco di caffè a fecaloma un uccello un uccello pulcino pulcino nel culo uova ah come si chiama il gesto di fare l'uovo no non è quello ah quello canto cazzo sei italiano provare l'uovo cagare l'uovo cagare un uovo da culo più partorire l'uovo più uovo culo più uovo un culo uovo culo uovo uovo sodo culo sodo vabbè culo sodo sarebbe culo sodo però ho sentito uovo sodo e ho detto bravo perché ma vabbè guarda ho detto subito dopo ma vabbè numero io abbiamo detto? no vai di sei vai di sei pronti? 3 2 1 via sì una maglietta una felpa una felpa una maglietta vabbè ok non so che ci interessa ah grafica sulla maglietta aspetta ma di che cosa è? è una guardia oddio ah marsupio bravo capite che culo si è fatto da solo dai sei autodisegnato sei autodisegnato 20 secondi ma che fanno bene ragazzi poi gli parte il legamento si guardate il ginocchio non se ne accorgerà secondo giro squadra stiamo perdendo 2 a 1 tocca recuperare smetteranno di metterci insieme ragazzi siamo ineluttabili io confido nell'1 1 vai dimmi dai ci diamo 2 1 via è quello di prima? ma come cazzo culo sodo uovo sodo culo in alto oddio un rastrello che cos'è? palo nel culo rastrellare il culo? grattarsi il culo un'altra persona che infila una mano tocca il culo? tocca il culo palpeggiare il culo palpeggiare palpare palpare strizzare le chiappe altra persona ma davanti persona felice che culo ma è natrico ah culo porta fortuna culo toccata di culo toccata di culo che culo che chiappe non posso mettere lettere non sono parole che culo culo fortunato fortunato piange ah ride ridere a crepa culo ridere a toccata di culo ridere a che chiappe oh il pennarello me lo rovini ma è schicciato la ragazza ha rotto il pennarello ridere a mano chiappa ha rotto il pennarello è finito il tempo brutto rincoglionito mi hai spaccato anche il pennarello che avevo cazzo non facciamo arrabbiare guarda la punta si è diventata autistica è diventata come il pittizio il pittizio rosa vedi ma perché cioè questa ho già la punta del pedalello ha fatto così e non pensavo che entrasse dentro non ci ho pensato e quindi ora prese per il culo prese per il culo e adesso come si disegna ok questo è il numero per il povero del quattro 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 sì dimmi quando sei pronto che ti faccio partire il tempo parti tre due uno via mettili un po' più al lato se riesci ho un disegnato invisibile è una mano un ali ali d'angelo un ali tornado sono delle ali delle ali è un uccello è un uccellino becco è un becco che cazzo c'è ma noi presa per il culo ha scelto moderno poi hai scelto tu quattro mi dispiace ci siamo tre a uno potevi fare le squadre un po' più equilibrate ci sta leo dimmi un numero da uno a sei 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 certo vai tre due uno via chi ha scelto il tuo numero è leo sto andando rocco lungo io non ho capito dai è lo stesso visione di bello montagne è sempre quello di bello è un nutscape è un nutscape secrezioni vaginali peni al vento clitoide leo non indovinare sparto parto pelli sulla vagina vagina pube pube vaginga melosa boh comunque sembra una mappa di super mario ah che grande è stato bellissimo il numero è la lettera il numero è la lettera vai sceglie leo leo scegli il numero 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 quattro quattro bravo indoviniamo questo quattro tre due uno via fiore luna tastiera beuta sgabello beuta cos'è un beuta pantaloni scarpe cintura zip tasca pene occhio che gabbo sta parlando troppo barzotto turgido duro peneduro semiduro durino durone durino durone durello vedi che devi dare il là e poi il mo e il gamba lo completa quant'era noi 28 noi 20 cioè voi 26 no ovviamente i punti che diciamo sono basati su quel che vediamo sul telefono ma nel video vedete il timer preciso se vuole axel può tagliare dei pezzi e fingere che ci avete messo di più o di meno ma infatti succederà così questo turno è nostro 3 a 3 io spero che te capita Anna Pepe come la disegneresti Anna Pepe? nuda devi dire un numero da 1 a 6 2 2 ha letto 2 il tato Leo Leo non guardare 2 1 via è un culo delle tette no è un culo è un culo aspetta no secondo me sono delle tette un piercing sulle tette ah sì tettazze tettone tette no seno tette burrose palpata di seno toccami le tette stimolazione del capezzolo orgasmo capezzolare aspetta non hai capito è un piede strizzare il capezzolo ah ok bellissimo trentasette 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 sai tutte le mamme pancine che si lamenteranno fai vedere questo tuo figlio stiamo perdendo 4 a 1 tocca a Gabbo di squarehead con il numero Leo dammi un numero da 1 a 6 3 ok entro 38 secondi Gabbo 3 2 1 via facilissimo albero è andata così veloce pianura picchio buco dai no impossibile dai secondi loro c'hanno veramente c'havete delle dai ma qua c'è veramente un cheat c'havete delle cose per disa mi dispiace la prossima volta falle un po' più equilibrate adesso allora abbiamo terminato i nostri round e la nostra squadra sta prendendo 5 a 1 ma ci aspetta il livello bonus che vale 5 punti ma fa culo è fallito livello bonus 5 punti disegna Leo chi indovina si becca 5 punti è stata tutta una falsa sto video quindi ci sarà Leo che disegna dagliene parole che sono lì sulle carte allora Leo tu dovrai disegnare quello che vuoi ok quando qualcuno di noi lo indovina tu ce lo devi dire ok vai amore oddio è il papà è la mamma è chiara no mamma e papà è Pachi è Spiderman è bravo hai fatto proprio uguale bravo come non volevi continuare vai vai finisci Pachi amore è una chiave vai amore fagli la coda fagli la coda ok ma è uguale ok bello bello bravo bravo amore è proprio uguale a Pachi bravo amore forse gli anni più bello dell'originale votate il miglior disegno nei commenti quindi abbiamo dei vincitori bravo che cosa ti lamenti c'era la parità di possibilità 6 a 5 è stata combattuta bravi ragazzi ce l'abbiamo fatta poco eh di poco di poco però è andata così spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando passate sul canale degli altri per altri golosi video altre sfide di disegno ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle scatouche scatouche vieni qua Leo fai scatouche fai scatouche come ieri allora devi fare così devi fare scatouche senza toccare la cassa bravo si tu dall'altibiedo guardi il mare che cazzo ha tutta la scatouche tutta la scarpa hai sverdato dai l'ho pensato una cacca caccona 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 caccona